Ciao ragazzi, dunque con la narrazione psicologica affrontiamo un tipo di narrazione molto particolare e anche relativamente giovane. Infatti tutto nasce nel 1899 quando un medico austriaco di nome Sigmund Freud pubblica un'opera che si intitola L'interpretazione dei sogni. Freud infatti riteneva che la mente, la mente umana, esattamente come il corpo, avesse bisogno di cure, avesse ogni tanto bisogno di essere visitata, di essere curata eventualmente se c'erano dei problemi e quindi le cause di alcune malattie, di alcuni disagi, di alcuni malesseri dei pazienti non risedevano nel fisico, non risedevano nel corpo, ma in una zona molto più profonda e complessa, ovvero la mente. Quindi Freud che cosa faceva? Spronava i suoi pazienti a raccontare, a raccontare degli episodi della propria vita, cercando di vedere se interpretando questi episodi si riuscisse a capire la causa del malessere di queste persone. Quindi all'inizio del Novecento la medicina, la scienza comincia a esplorare la mente, comincia a cercare di penetrare a fondo del funzionamento della mente umana. Come funziona la mente? Funziona come il corpo? Si può ammalare? Può guarire? Dove sono concentrate le malattie della mente? Quanta incidenza hanno? Quanto sono importanti per il nostro modo di vivere e di affrontare la vita? Quindi insomma si cominciò a capire che la vita dell'essere umano non avveniva solo all'esterno, ma c'era anche una vita interiore, dentro ognuno di noi, una vita che è rappresentata appunto dai nostri pensieri, dalla nostra mente, da quello che la nostra mente genera e produce e che noi siamo in grado di controllare solo fino a un certo punto. Infatti lo stesso Freud elaborò tre categorie che rappresentano tre diversi livelli della mente umana, ovvero l'ess, l'io e il superio. La mente umana, diciamo, possiamo paragonarla un pochino a un iceberg, ovvero c'è una parte che noi vediamo, che emerge dalla superficie, che in psicoanalisi si chiama conscio, conscio significa consapevole, quindi è quella parte della mente che noi possiamo controllare, quindi i pensieri che noi possiamo controllare, pensieri e riflessioni che noi facciamo sapendo di farli. Ma sotto la, sotto la parte visibile c'è una parte invisibile, una parte più misteriosa, nascosta e complessa, che si chiama subconscio. Il subconscio è la parte della nostra mente che noi non possiamo controllare. Ad esempio è la parte della mente che si manifesta quando sogniamo. Noi quando sogniamo non possiamo controllare il nostro sogno, in più delle volte non ci accorgiamo neanche che stiamo sognando. Quindi è tutta opera del subconscio, quindi una parte della mente che agisce per conto suo, senza il controllo del soggetto, senza il controllo da parte nostra. Vediamo quindi cosa sono queste tre categorie. Partiamo dall'ess. L'ess è quella parte della nostra mente che, diciamo, rappresenta i nostri bisogni più istintuali, rappresenta i nostri bisogni più egoistici, in un certo senso, ovvero quello che noi vogliamo, sentiamo di voler fare. Ok? Quindi la nostra parte più istintiva, se vogliamo, come possiamo descriverlo. Diciamo che l'ess è quella parte della mente che è preposta al soddisfacimento dei nostri piaceri e dei nostri bisogni egoistici. Quindi è ciò, in un certo senso, che noi vogliamo, vogliamo fare. Torniamo alla nostra, alla nostra slide. Il, il superio, invece, rappresenta un pochino la forza opposta. Il superio rappresenta un, tutto l'insieme delle regole, dei divieti e delle aspettative che ci vengono imposti dalla società, che ci vengono imposti dall'esterno. Quindi rappresenta un modello di comportamento che la società, che la società si aspetta da noi. Ok? Facciamo un esempio pratico, che sicuramente sarà capitato a ognuno di voi. Immaginate di svegliarvi la mattina presto, perché dovete andare a scuola e magari non avete dormito molto la sera prima. Quindi vi svegliate con un, con un, con un gran sonno. E, e, e sapete che vi aspettano sei ore di scuola, magari con un compito in classe, magari, magari anche con un rischio interrogazione. Quindi, insomma, si prospetta una giornata lunga e dura. Qual è il vostro primo pensiero, probabilmente? Ah, come vorrei restarmene a letto. Vorrei tanto dormire un po' di più. E quello è l'S. È quella parte della mente che sta parlando e ci dice cos'è che vorremmo fare veramente. Qual è il nostro bisogno che in quel momento sentiamo come più urgente, no? Vorrei continuare a dormire. Ho un sonno tremendo, ho dormito poco, quindi il nostro primo impulso, se vogliamo, è di restarcene tranquilli sotto le coperte e lasciar passare questa giornata così difficile, senza subirne le conseguenze. A questo punto interviene il superio, il nostro superio, che ci dice no, tu ti devi alzare perché la scuola è obbligatoria, è tuo dovere andare a scuola, è tuo dovere fare il compito in classe perché era previsto, ed è anche tuo dovere magari, se il professore ti chiama, andare all'interrogazione. Quindi il superio interviene a ricordarci tutti i nostri doveri e in un certo senso anche quello che la società si aspetta da noi e da voi. Quindi il superio è il nostro senso del dovere, il nostro senso di responsabilità. E appunto vi renderete conto che ciò che ci dice l'S e ciò che ci dice il superio sono un po' in contraddizione fra di loro, sono due forze che spingono in direzioni opposte. Quindi a questo punto interviene il nostro io. L'io è quella parte della nostra mente conscia, appunto quindi consapevole, che è incaricata di trovare una mediazione fra S e superio, quindi è incaricata di trovare un equilibrio, un giusto mezzo fra ciò che noi vorremmo fare istintualmente e ciò che invece dobbiamo fare. E quindi il nostro io può intervenire dicendo per esempio, va bene, alzati, fai questo sforzo, vai a scuola, fai questo compito in classe, possibilmente se il professore ti chiama vai all'interrogazione per evitare un 2 e magari oggi pomeriggio dopo pranzo ti fai un'oretta di sonno per recuperare le ore di sonno arretrate. Quindi l'io insomma cerca in maniera razionale, con un po' di buonsenso, di trovare un compromesso fra ciò che vorremmo fare e ciò che invece dobbiamo fare. Qual è il problema, diciamo, in questo? È che non sempre è possibile trovare un compromesso fra S e superio, non sempre noi riusciamo a trovare una soluzione razionale alle contraddizioni della nostra mente, ok? La mente non è un qualcosa che è del tutto logico, non è un qualcosa che obbedisce sempre alla logica. La mente è piena di contraddizioni, è piena di frammenti, è piena di pensieri che vanno uno contro l'altro a volte, la mente è capricciosa, non la possiamo controllare del tutto. Pensate per esempio alla gola, alla golosità, noi diciamo, mettiamo che abbiamo davanti un dolce, e appunto il nostro S cosa ci dice? Mangiatelo, mangiatelo a sazietà, riempiti di dolce, ok? Mi piace, me lo mangio. Il superio interviene a dire no, non devi mangiare perché ti fa male, poi dopo ti lamenti che ti vengono i brufoli, che ti ingrassi, quindi no, non lo devi mangiare, fa male, quindi non lo mangi. E magari come va a finire, come può andare a finire? Va a finire che magari ce lo mangiamo lo stesso, il dolce, poi dopo ce ne pentiamo, però in quel momento lo mangiamo lo stesso. E quindi la domanda è, ma perché facciamo, dovremmo fare qualcosa che non solo ci fa male, ma che sappiamo che ci fa male? Noi sappiamo che quella cosa ci fa male, eppure la facciamo lo stesso. Perché? Eh, bella domanda! Forse non c'è una risposta univoca, forse non c'è un'unica risposta, e magari le risposte che troviamo non ci sembreranno neanche soddisfacenti, proprio perché la mente non ragiona sempre in maniera logica. La mente umana è piena di contraddizioni. E quindi è questo, diciamo, queste contraddizioni della mente, tutte queste frammentazioni della mente, insomma la mente è un po' come uno specchio rotto, pieno di cocci che noi cerchiamo piano piano di rimettere insieme con un po' di colla, ma a volte ci riusciamo, a volte ci riusciamo così e così, a volte non ci riusciamo per niente, anzi rischiamo di peggiorare la situazione, no? E quindi gli scrittori cominciarono a raccontare storie che non si svolgevano al di fuori, all'esterno del soggetto. Quindi al centro non c'è l'esterno del soggetto, ma queste storie si svolgono all'interno, nell'interiorità del soggetto, nella sua mente, nei suoi desideri, nei suoi sogni, nelle sue censure, no? Perché a volte noi ci autocensuriamo, no? Ci imponiamo delle cose, ce le auto imponiamo. Quindi la narrazione psicologica è una narrazione che avviene tutta dentro il soggetto e non fuori, come tutti gli altri tipi di narrazione che noi abbiamo visto finora. E quindi cosa c'è di particolare? Beh, che se noi entriamo nella testa di un personaggio, se esploriamo la sua psiche e la sua interiorità, beh, ci avventuriamo in un percorso molto poco delineato, in un percorso difficile, complicato, complicato proprio da percorrere e a volte, che a volte magari può non portarci da nessuna parte, ok? Quindi la caratteristica del romanzo psicologico è quella di svolgersi nella mente del personaggio. E io qui vi ho riportato, qui vi ho riportato intanto alcuni titoli più famosi, oltre all'interpretazione dei sogni, alcuni grandi scrittori che hanno raccontato storie che indagassero nella mente del... che penetrassero all'interno della psiche del protagonista. Uno sono le metamorfose... uno è la metamorfosi di Kafka, l'altro è la coscienza di Zeno, il terzo è Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello. Sono tre romanzi che fanno entrare il lettore nella mente del personaggio, con tutte le sue contraddizioni, con i suoi sogni che magari non si sono realizzati, quindi con tutte le insoddisfazioni anche represse dei personaggi, delusioni, indecisioni, comportamenti illogici, quindi insomma tutte le spaccettature della mente umana. E approntano, diciamo, la mente umana e i problemi, diciamo, dell'interiorità umana sotto diversi punti di vista. La metamorfosi di Kafka, per esempio, si sofferma su il fatto che la società ci impone di fare certe cose, ci impone di lavorare e anche la famiglia a volte ci impone qualcosa, no? Per esempio ci impone di rispettare i nostri genitori, ci spinge quasi a voler rendere i nostri genitori fieri di noi, quindi magari a volte sacrifichiamo i nostri... quello che noi vorremmo davvero fare e facciamo qualcosa che invece renderebbe fieri i nostri genitori e tutti questi obblighi di vieti e, diciamo, imposizioni penetrano nella mente del soggetto e la danneggiano inevitabilmente, la lacerano, hanno un effetto distruttivo. Il protagonista di questo romanzo è sostanzialmente schiacciato come un insetto da tutte le imposizioni sia della società sia della sua famiglia, perché c'è questa figura del padre, del protagonista, che è una specie di orco, no? Il figlio lo vede... il figlio vede il padre un po' come un orco, come una presenza opprimente, che lui deve cercare di compiacere e di soddisfare, però quindi, insomma, il figlio non si sente mai libero dall'ombra oppressiva del padre e, allo stesso modo, è costretto a fare un lavoro molto duro che, diciamo, un pochino schiaccia un lavoro alienante. E quindi poi Kafka analizza come tutte queste imposizioni distruggono e lacerano la psiche del protagonista. Allo stesso modo, nella coscienza di Zeno, noi entriamo veramente nella testa del personaggio, che racconta a uno psicanalista alcuni episodi del suo passato, della sua infanzia, della sua giovinezza, un passato costellato di delusioni, di sogni che non si sono realizzati, di debolezze che non vengono sconfitte. Quindi un soggetto estremamente complesso e spaccettato, pieno di problemi irrisolti nella sua mente. E invece Pirandello, in Uno Nessuno e Centomila, affronta un'altra tematica tipica della narrazione psicologica. Sostanzialmente il romanzo comincia con il protagonista, Vitangelo, che si guarda allo specchio e nota che il suo naso è un pochino storto, nota un particolare di se stesso che non aveva mai notato prima, il naso leggermente storto. E da questo piccolo e apparentemente insignificante dettaglio, Vitangelo comincia a riflettere. Beh, io dice, io mi vedo così, ma come mi vede mia moglie? Mia moglie mi vede nello stesso modo in cui mi vedo io? Come mi vedono i miei amici? Come mi vedono i miei conoscenti del paese? Probabilmente io mi vedo in un modo e mia moglie mi vede in un altro, un mio amico mi vede in un altro modo ancora, una persona che non mi conosce mi vede in un altro modo ancora. Quindi ci sono tanti modi in cui io sono visto. Quindi io non sono un'unica persona. Io sono centomila persone, a seconda del punto di vista di chi mi osserva. E quindi questo personaggio, Vitangelo, prova a fare una cosa, prova a comportarsi con tutti nello stesso modo, in modo che tutti lo vedano come uno, come un'unica persona. Quindi è un tentativo del soggetto di rimettere insieme tutti i pezzetti del suo modo di essere fino a formare un unico blocco, quindi cercare un'unità. In fondo tutti noi cerchiamo dentro di noi un'unità, cerchiamo di trovare un ordine nella matassa delle nostre pulsioni e creare una rete ordinata e unitaria, no? Ed è quello che cerca di fare il protagonista di Uno, Nessuno e Centomila. Lui è visto in centomila modi diversi, a seconda di chi lo vede, cerca di essere uno e sul senso del Nessuno. Insomma, vi lascio, ve lo lascio così, insomma, se volete leggere il romanzo, insomma, vedrete anche perché Nessuno. E quindi, insomma, i narratori, gli scrittori di quest'epoca cominciarono a raccontare storie che si svolgesse, che analizzassero la psiche del personaggio, non tanto quello che succedeva al di fuori, quanto quello che succedeva dentro il personaggio. La narrazione psicologica è svolta quasi interamente dentro, all'interno, nell'interiorità del personaggio. Quindi, insomma, il luogo esterno, lo spazio esterno non ha molta importanza, ha importanza allo spazio interno. E qui vi ho riportato, per concludere, alcuni concetti che ritornano molto nelle narrazioni psicologiche. Intanto questa parola, Inetto, il protagonista, in genere, di queste narrazioni non è un personaggio del tutto positivo, non è un eroe, ok? Non è un personaggio che incarna per forza dei valori esemplari, quasi sovrumani. I protagonisti di queste storie sono personaggi comunissimi, anzi piuttosto banali, che non hanno chissà quale vita interessante, che magari non svolgono nessuna attività particolarmente degna di nota. E anche caratterialmente, spesso sono personaggi molto deboli caratterialmente, pieni di insicurezze. Quindi, insomma, sono tutto tranne che degli eroi, l'eroe positivo come noi ce lo immaginiamo. Insomma, non sono dei principi azzurri, non sono dei valorosi cavalieri, o dei forti condottieri, o dei personaggi, non sono neanche personaggi con dei saldi valori, dei saldi principi morali. Sono personaggi mediocri, grigi, appunto, assolutamente inetti. Appunto, inetto significa incapace, perché appunto questi personaggi spesso sono incapaci di trovare un senso a tutto quello che sentono nella propria interiorità. E quindi, insomma, non compiono imprese o non abbracciano dei valori chissà quanto positivi. Insomma, sono personaggi comunissimi, grigi, appunto, comuni. Un altro aspetto è il flusso di coscienza, nel senso che, come forse avrete già immaginato, in un romanzo psicologico prevalgono le sequenze, scusate, qui c'è un errore, chiaramente, non le sequenze descrittive, ma le sequenze riflessive, quindi quelle sequenze che interrompono l'azione e ci fanno conoscere i pensieri del personaggio, quindi chiaramente nella narrazione psicologica questo tipo di sequenze è predominante. E ha anche lo stile, il modo di scrivere si adatta a queste sequenze riflessive. Spesso troverete questa denominazione, flusso di coscienza, ovvero il flusso di coscienza è una tecnica narrativa, un modo di raccontare, per cui il narratore racconta tutto quello che passa per la mente del protagonista, quindi senza un filo logico, ok? Esattamente come i nostri pensieri. Mi sarà capitato spesso di fare tanti pensieri uno dietro l'altro e questi pensieri non erano necessariamente collegati fra loro, andavate da una parte all'altra dei vostri pensieri senza stare lì a dargli un ordine logico, ok? Ecco, il flusso di coscienza è questo, è un modo di scrivere che riporta appunto tutti questi pensieri così come vengono, quindi spesso non c'è neanche la punteggiatura, quindi è proprio un flusso, come un fiume in piena, che rispecchia appunto il fiume dei pensieri, che vengono uno dietro l'altro e che l'autore riporta così come vengono, quindi a volte è proprio difficile trovare un senso, a volte non c'è un senso, ok? Perché la nostra mente, come abbiamo già detto, non sempre ragiona in maniera logica. E quindi anche la struttura della narrazione non è sempre prevedibile. Noi siamo abituati a trovare un incipit, un esordio, le varie peripezie, lo spannung, cioè il momento di maggior tensione, e infine lo scioglimento. Il romanzo psicologico non necessariamente rispecchia, riporta queste categorie, perché queste sono categorie logiche, è come logicamente andrebbe strutturato un romanzo, ma appunto, ormai l'abbiamo detto tante volte, la mente non è sempre razionale. Quindi può capitare che leggendo un romanzo psicologico noi ci imbattiamo in una serie di episodi che apparentemente sembrano slegati fra di loro, quindi anche Zeno, per esempio, nella coscienza di Zeno, lui comincia a raccontare la sua vita, ma non la racconta in ordine cronologico. Racconta una serie di episodi slegati, alcuni relativi alla sua età adulta, poi torna a quando era ragazzo, poi ritorna al presente, poi ritorna al passato, e tutti questi episodi apparentemente non sono legati da un filologico. Sembrano tanti frammenti della mente che apparentemente non riescono a incollarsi bene fra di loro, proprio perché quando noi ci confidiamo, insomma, raccontiamo qualcosa, non necessariamente seguiamo un filologico, raccontiamo quello che ci viene in mente lì sul momento, e quindi anche Zeno racconta quello che gli viene in mente, e quindi non necessariamente c'è un filologico. La penultima caratteristica appunto riguarda la molteplicità di interpretazioni, e qui appunto torniamo a uno, nessuno e centomila, quindi il soggetto, il soggetto, il protagonista si fa continuamente domande su chi è, su come lo vedono gli altri, su come dovrebbe essere, quindi chi sono io, e chi sono io per gli altri, cosa posso essere e cosa invece devo essere, e quello che posso, possiamo aggiungere anche cosa voglio essere, no? E non è detto che tutte queste domande abbiano un'unica risposta, anzi molto spesso non ce l'hanno un'unica risposta, e ancora più spesso le varie risposte si contraddicono fra loro, è qui che nasce la crisi, è qui che nasce il trauma, il problema nella mente del soggetto, ok? Tutte queste domande, diciamo potremmo dire sul senso della vita, sul senso di se stessi, a volte si contraddicono fra di loro, abbiamo visto, cosa voglio essere, ma quello che voglio essere rispecchia quello che devo essere, beh, in più delle volte no, come sappiamo, ok? Quindi uno stesso episodio che viene raccontato nella narrazione psicologica può essere interpretato in tantissimi modi, appunto uno, nessuno e centomila modi di interpretare un certo episodio, quindi non c'è un'unica verità nella narrazione psicologica, non c'è un'unica conclusione a cui può giungere il lettore, perché appunto la mente, la nostra interiorità è talmente piena di pensieri e spinte contrastanti che uno stesso episodio può essere visto in tantissimi modi diversi, quindi è un qualcosa che, diciamo, spiazza il lettore, no? Noi siamo abituati ad avere un narratore che ci prende per mano e ci conduce passo passo all'interno della storia. Il narratore della narrazione psicologica fa esattamente il contrario, ti prende e ti butta dentro quel grande mare in tempesta che è l'interiorità del personaggio, quindi non ti dà un salvagente, non ti dà una boa, ti fa vedere il mare com'è, insomma, e noi possiamo cercare di sopravvivere, insomma, di interpretare questo oceano in tanti modi diversi, ma non è detto che ce ne sia uno che sia più vero degli altri. E infine, quest'ultimo concetto, la narrazione come terapia. Abbiamo visto che Freud appunto spingeva i suoi pazienti a raccontare, proprio perché il racconto poteva avere, poteva servire al paziente per esorcizzare alcune cose che sentiva dentro. Quindi la narrazione aiuta. Se noi abbiamo un qualcosa di irrisolto dentro di noi, se noi abbiamo un dolore che non riusciamo a capire bene cos'è, oppure un qualcosa di cui magari non vogliamo neanche parlare all'inizio, se noi invece cominciamo a parlarne, cominciamo a provare a raccontare questa cosa strana e poco chiara che abbiamo dentro, ecco, raccontare ci può aiutare a capire meglio cosa noi sentiamo. Quindi proviamo a, o con la nostra voce o con la nostra penna, a provare a trovare un percorso in quello che apparentemente è una matassa intricata, cioè i nostri pensieri. Quindi la narrazione, la scrittura, anche può avere una funzione terapeutica, cioè una funzione potenzialmente curativa. È un percorso, perché appunto, come sappiamo, l'essere umano è da sempre portato a raccontare, no? È una caratteristica della nostra specie che ci distingue dagli altri animali. Noi siamo portati a condividere i nostri sentimenti, a provare a raccontarli per dargli un senso, a raccontarli per il gusto di raccontare, per provare a suscitare in chi ci ascolta e anche in noi stessi delle emozioni forti. Questo è tipico dell'essere umano. Ecco, con la narrazione psicologica, noi entriamo nell'interiorità del personaggio, quindi non conta più, non conta più troppo quello che sta all'esterno, ma conta quello che sta dentro il personaggio, e i personaggi di questa narrazione non sono più eroi tutti di un pezzo, no? Ma sono personaggi frammentati, pieni di contraddizioni, pieni di spinte, appunto di pulsioni e di doveri, quindi non sono personaggi sicuri di sé e tutti di un pezzo, insomma. Sono personaggi pieni di contraddizioni, pieni di complicazioni, frutto della loro mente che può essere più o meno malata, più o meno nevrotica, più o meno complicata, e appunto il fascino di questa narrazione sta proprio nell'indagare, nel provare a raccontare tutte queste spinte, anche contraddittorie, che tutti noi abbiamo nella nostra mente. Spero che la lezione sia stata chiara, io vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione.